Capitolo 18 L'ha notato solo l'autore di questo articolo? O in questi giorni i gentiluomini, più uomini che gentili, dell'alta società, bevono più del solito? Dalle cronache mondane di Lady Whistledown, 4 giugno 1813 Simon uscì e si ubriacò. Non lo faceva spesso. Non era nemmeno una cosa che gli piacesse particolarmente, ma lo fece. C'erano molti pub vicino al porto, a poche miglia da Clivedon, e c'erano anche molti marinai pronti ad attaccar briga. Due di loro trovarono Simon. Li atterrò entrambi. C'era una rabbia in lui, un furore che gli ribolliva dentro da anni e che trovava finalmente il modo di affiorare. Era bastata una piccola provocazione per farlo esplodere. Era già abbastanza ubriaco quando accadde. Così, mentre li picchiava, non vedeva i marinai abbronzati dal sole, ma suo padre. Ogni pugno lo sferrava su quel ghigno sprezzante e gli faceva bene. Non si era mai considerato un uomo violento, ma, dannazione, lo faceva sentire bene. Dopo che ebbe finito coi due marinai, nessuno osò più avvicinarsi. La gente del posto sapeva riconoscere la forza fisica e soprattutto la collera e tutti sapevano che fra le due era più pericolosa la seconda. Simon rimase nel pub fino alle prime luci dell'alba. Bevve dalla bottiglia che aveva comprato. Poi, quando fu il momento di andarsene, si alzò sulle gambe malferme, mise la bottiglia in tasca e si avviò verso casa. Bevve durante la cavalcata di ritorno e sentì il whisky bruciargli le viscere. Mentre si ubriacava sempre più, solo un pensiero si affacciava alla sua mente ottenebrata dall'alcol. Voleva che Daphne tornasse da lui. Era sua moglie, dannazione a lei. Si era abituato ad averla al suo fianco. Non poteva semplicemente alzarsi e lasciare la loro camera da letto. L'avrebbe riavuta indietro. L'avrebbe corteggiata e fatta sua e... Questo sarebbe dovuto bastare. Era troppo sbronzo per pensare ad altro. Quando raggiunse il castello di Clivedon, era ormai allo stadio in cui un ubriaco è convinto di avere sempre ragione. E quando fu davanti alla porta della camera di Daphne, fece un chiasso da resuscitare i morti. Daphne! Gridò, cercando di nascondere la nota di disperazione nella voce. Non c'era bisogno di apparire patetico. Si accigliò e rifletté. D'altra parte, se lei lo credeva disperato, era più probabile che gli aprisse. Inspirò rumorosamente con il naso un paio di volte. Poi gridò di nuovo. Daphne! Poiché lei non rispondeva, Simon si appoggiò alla porta, ma soprattutto perché non riusciva più a reggersi in piedi. Oh, Daphne! Sospirò con la testa appoggiata al legno. Se tu... Il battente si aprì e lui cade a terra a lungo disteso. Dovevi aprire così... Così in fretta! Farfugliò. Daphne guardò quell'essere sul pavimento e quasi non lo riconobbe. Oddio, Simon! Che cosa hai? Si piegò per aiutarlo, ma subito si ritrasse quando lui aprì la bocca. Sei ubriaco! Lo accusò. Simon annui con sollennità. Temo di sì. Dove sei stato? Lui batte le palpebre e la guardò come se non avesse mai sentito una domanda tanto stupida. Fuori a ubriacarmi! Rispose con un singhiozzo. Dovresti essere a letto! Simon annui, questa volta con maggior vigore ed entusiasmo. Sì, sì, dovrei. Cercò di alzarsi in piedi, ma riuscì solo a mettersi in ginocchio. Poi cadde di nuovo sul tappeto. Tossicchiò guardandosi la metà inferiore del corpo. Che strano! alzò il viso verso Daphne e la guardò confuso. Avrei giurato che fossero le mie gambe! Daphne alzò gli occhi al cielo. Lui tentò di nuovo di alzarsi, ma con lo stesso risultato. Sembra che i miei arti non funzionino nel modo giusto. Commentò. È il tuo cervello che non funziona, replicò Daphne. Che cosa devo fare con te? Simon la guardò e rise. Fare l'amore! Hai detto che mi ami! Con la fronte aggrottata concluse. Non credo che tu possa rimangiartelo. Lei sospirò profondamente. Avrebbe dovuto essere furente con lui. Accidenti! E lo era! Ma era difficile mantenere la rabbia a un giusto livello con lui in uno stato così patetico. Inoltre, con tre fratelli maschi, aveva una certa esperienza di sbronze. Simon doveva dormire e basta. Si sarebbe svegliato con un gran mal di testa, che si meritava. Poi avrebbe bevuto un'orribile mistura, che di sicuro gli avrebbe fatto passare tutto. Simon, quanto sei ubriaco! Gli chiese con pazienza. Molto! Rispose lui con un sorriso sbieco. Lo immaginavo! Borbottò Daphne a denti stretti. Poi gli mise le mani sotto le ascelle. Alzati adesso! Devi andare a letto! Ma lui non si mosse. Se ne stava seduto e la guardava con espressione ebete. Perché devo alzarmi? Farfugliò. Perché non ti siedi qui con me? Chiese circondandola con un molle braccio. Vieni! Siediti con me, Daphne. Simon! Lui batte la mano sul tappeto. Si sta bene qui. No, non posso sedermi con te. Rispose Lady vincolandosi. Devi andare a letto. Cercò ancora di tirarlo su, ma senza successo. Santa pazienza, perché dovevi uscire e ubriacarti in questo modo? Mormorò lei tra i denti. Simon doveva averla sentita, perché piegò la testa e disse Volevo che tornassi da me. Volevo che tornassi da me. Daphne rimase a bocca aperta. Entrambi sapevano che cosa lui avrebbe dovuto fare per riconquistarla. Ma lui era troppo sbronzo perché lei potesse intavolare una discussione sull'argomento. Così gli disse Ne parleremo domani. Lui batte le palpebre diverse volte e annunciò Credo che sia già domani. Girò la testa da una parte e dall'altra, sbirciando verso la finestra. Le tende erano chiuse, ma filtrava già la luce del nuovo giorno. È giorno, vedi? Biascicò, facendo un gesto verso la finestra. È già domani. Allora parleremo stasera. Daphne cominciava a sentirsi disperata. Le sembrava che le avessero spinto il cuore in un mulino a vento. Non credeva di poter sopportare altro a quell'ora. Ti prego, Simon, lasciamo perdere per adesso. Il fatto è... Daphri Riprese, poi scosse la testa come un cane bagnato. Daphne Sillabò Daphne Daphne Lei non poteva fare a meno di ridere. Che cosa c'è, Simon? Il problema è... Che non capisci Disse lui e si grattò la testa. Che cosa non capisco? Che non posso farlo? Alzò il viso allo stesso livello di quello di lei E lei trassalì di fronte alla sua espressione sofferente. Non volevo farti male, Daph. Daph, questo lo sai, vero? Lei annui. Lo so. Bene. Perché... Io non posso fare quello che vuoi. Quindi prese un lungo sospiro che sembrò scuoterlo tutto. Daphne non disse nulla. Per tutta la mia vita, lui ha sempre vinto. Continuò con tristezza. Lo sapevi questo. Ha sempre vinto. Questa volta voglio vincere io. Con un lungo, difficile movimento disegnò con il braccio un arco orizzontale e si batte il petto con il pollice. Io? Per una volta. Io voglio vincere. Oh, Simon. Tu hai vinto da quando hai superato le sue aspettative. Ogni volta che hai avuto un successo, che ti sei fatto un amico, che hai viaggiato in un nuovo paese, hai vinto. Hai fatto tutto quello che tuo padre non si aspettava da te. Gli strinsi a una spalla e proseguì. L'hai sconfitto. Hai vinto. Perché non riesci a capirlo? Simon scosse il capo. Non voglio diventare quello che voleva lui. Lui voleva un figlio perfetto. Un perfetto duca. Che sposasse una perfetta duchessa e avesse dei figli perfetti. Daphne si morse il labbro. Aveva ricominciato a balbettare. Doveva essere sconvolto. Sentì che le si spezzava il cuore per lui, per il bambino che voleva solo l'approvazione di suo padre. Simon inclinò la testa e la guardò con fermezza. Ti avrebbe approvata. Oh! Daphne non sapeva come interpretarlo. Lui alzò le spalle e fece un sorrisetto malizioso. Ma ti ho sposata lo stesso. Appariva così sincero, così infantilmente serio, che lei dovette fare uno sforzo per non abbracciarlo, né il tentativo di confortarlo. Eppure, per quanto profondo fosse il suo dolore, per quanto la sua anima fosse ferita, stava travisando tutto. La migliore vendetta nei confronti del padre sarebbe stata semplicemente una vita piena e felice, ottenendo tutti i traguardi e gli onori che il padre aveva voluto negargli. Si sentiva frustrata. Non riusciva a vedere come Simon potesse condurre una vita felice se tutte le sue scelte erano dirette a contrastare i desideri di un uomo morto. Ma preferiva non discutere. Era stanca e lui era ubriaco. «Lascia che ti porti a letto», disse. Lui la fissò per un lungo momento. Aveva negli occhi un bisogno di conforto vecchio di anni. «Non abbandonarmi», bisbigliò. «Simon!» Daphne aveva un nodo alla gola. «Ti prego, non lasciarmi. Lui mi ha lasciato. Tutti mi hanno lasciato. Poi me ne sono andato io». Le strinse la mano. «Rimani». Daphne annui e si alzò in piedi. «Puoi dormire nel mio letto. Sono sicura che domattina starei meglio. Ma starai con me. Starò con te». Era un errore e lo sapeva, ma lo disse lo stesso. «Bene». Lui riuscì a tirarsi in piedi barcollando. «Perché non potrei... Davvero». Sospirò e le rivolse uno sguardo angosciato. «Ho bisogno di te». Daphne lo portò fino al letto e per poco non gli cadde addosso sul materasso. «Sta fermo». Ordinò e si chinò per togliergli gli stivali. L'aveva fatto per i suoi fratelli. Così sapeva come agire. Ma questi erano un po' più aderenti e quando finalmente riuscì a liberargli il piede lei finì sul pavimento. «Cielo! E dicono che essere schiave della moda sono le donne!» Borbottò. Simon sembrava già russare. «Dormi?» domandò in credula. Gli tolse l'altro stivale che venne via più facilmente. Poi gli sollevò le gambe, pesantissime, e le mise sul letto. Simon sembrava più giovane e pacifico con le ciglia nere che sfioravano le guance. Daphne gli scostò i capelli dalla fronte. «Buon riposo, tesoro mio!» bisbigliò. «Ma quando fece per muoversi, una mano la ferrò. Hai detto che rimanevi?» l'accusò Simon. «Credevo che dormissi!» «Questo non ti dà il diritto di infrangere la promessa!» la tirò per un braccio. Daphne rinunciò a resistere e si sistemò accanto a lui. Simon era caldo ed era suo e anche se lei temeva per il loro futuro, in quel momento non riuscì a sottrarsi al suo gentile abbraccio. Si svegliò circa un'ora dopo, sorpresa di essersi addormentata. Simon era ancora steso accanto a lei e russava leggermente. Erano entrambi vestiti, lui con gli abiti che puzzavano di whisky, lei in camicia da notte. Gli sfiorò la guancia. «Che cosa devo fare con te?» bisbigliò. «Io ti amo, sai, ti amo, ma odio quello che fai a te stesso!» sospirò. «E a me? Odio quello che fai a me!» Lui si mosse nel sonno e per un momento lei temette che si fosse svegliato. «Simon?» sussurrò, poi, non ottenendo risposta, si rilassò. Sapeva di non dover dire ad alta voce cose che non era sicura lui fosse pronto a sentire, ma pareva così innocente, con il capo posato sul cuscino candido, che le veniva spontaneo raccontargli i suoi pensieri più intimi. «Oh, Simon!» gemette mentre gli occhi le si riempivano di lacrime. Doveva alzarsi, doveva assolutamente alzarsi e lasciarlo riposare. Capiva perché fosse così contrario a mettere al mondo un figlio, ma non l'aveva perdonato e men che mai era d'accordo con lui. Se si svegliava mentre lei era ancora tra le sue braccia, avrebbe creduto di averla convinta ad accettare la sua idea di famiglia. Lentamente, con riluttanza, Daphne cercò di liberarsi, ma le braccia di lui rafforzarono la stretta e la sua voce assonnata mormorò «No!» «Simon, io...» Lui la strinse a sé e lei si accorse che era eccitato. «Simon, sei sveglio?» volle sapere spalancando gli occhi. La risposta fu un altro borbottio assonnato. Non fece alcun tentativo di seduzione, ma la tenne stretta. Daphne non sapeva che gli uomini potevano desiderare una donna anche mentre dormivano. Tirò indietro la testa per vederlo in faccia. Poi seguì la linea della sua guancia con un dito. Lui emise un piccolo gemito. Lentamente lei slacciò i bottoni della camicia e con l'indice fece un cerchio attorno all'ombelico. Simon si mosse inquieto e Daphne si sentì pervadere da una sensazione di potere. Lui era sotto il suo controllo. Dormiva, probabilmente era ancora ubriaco e lei poteva fargli quello che voleva. Poteva avere quello che voleva. Gli sbottonò i calzoni. vide che era ancora duro allora avvolse la mano intorno alla sua eccitazione. Sentì pulsare il suo sangue sotto le dita. Daphne! Lui aprì gli occhi ed emise un rauco mugolio. Oh, è così bello! Zitto! Lascia fare tutto a me! Disse lei in un soffio togliendosi la camicia da notte. Simon giaceva su Pino le mani strette a pugno lungo il corpo mentre lei lo accarezzava. Suo marito le aveva insegnato parecchio nelle due brevi settimane di matrimonio e presto lui cominciò a dimenarsi ansimando. Anche lei lo desiderava. Si sentiva padrona della situazione mentre armeggiava su di lui. Comandava lei e questo era il più stupendo afrodisiaco che avrebbe potuto immaginare. Sentì un fremito nel ventre una specie di stimolo e capì che aveva bisogno di lui. Lo voleva dentro di sé voleva che le desse quello che un uomo deve dare a una donna. Oh, Daphne! gemette Simon muovendo la testa. Ho bisogno di te ho bisogno di te subito! Lei gli si mise sopra premendogli le mani sulle spalle e lo guidò dentro di sé. Simon sollevò i fianchi e lei lentamente scivolò lungo il suo sesso. Di più adesso! gemette lui la testa all'indietro. Daphne lo accolse finché non fu completamente dentro di lei. A quel punto credette di morire di piacere. Non si era mai sentita così piena così completamente donna. mentre si muoveva su di lui mugolava e si contorceva di godimento. Simon emise un suono gutturale e la guardò mentre il suo respiro si faceva sempre più caldo e pesante. Oh Daphne che cosa mi stai facendo? Che cosa? Lei gli toccò un capezzolo e Simon fece un balzo. Dove hai imparato a fare questo? Lei gli rivolse un sorriso sconcertante. Non lo so di più voglio guardarti gemette lui. Daphne non sapeva bene che cosa fare così agì distinto. Cominciò a muoversi con un movimento circolare e inarcò la schiena protendendo i seni e accarezzandone le punte con le dita senza togliere gli occhi dal viso di Simon. Lui sollevò ritmicamente il bacino mentre stringeva il lenzuolo fra le mani. Daphne capì che era quasi arrivato al punto. Lui era sempre così desideroso di darle piacere. Si preoccupava che lei raggiungesse l'estasi prima di concedersi lo stesso privilegio. Ma quella volta ci sarebbe arrivato prima lui. Anche lei era vicina ma non così tanto. «Oh diavolo!» esclamò a un tratto Simon la voce roca di desiderio. «Sto per... non posso...» la guardava con un'espressione quasi implorante e tentò di tirarsi indietro. Daphne lo bloccò con tutta la sua forza. Simon esplose dentro di lei. La forza dell'orgasmo gli staccò i fianchi dal letto trascinando Daphne in alto. Lei mise le mani sotto di lui usando tutta la sua forza per tenerlo dentro di sé. Questa volta non l'avrebbe perso. Non si sarebbe lasciata scappare l'occasione. Simon aprì gli occhi non appena venne realizzando troppo tardi quello che era appena successo. Il corpo aveva preso il sopravvento. Si era eccitato troppo per poter riuscire a mantenere il controllo. Se fosse stato sopra lui avrebbe forse trovato la forza di togliersi ma sdraiato sotto Daphne mentre la guardava ardere di desiderio non aveva potuto fare niente per fermare l'urgente e insaziabile bisogno che aveva di lei. Con i denti stretti e il corpo che sussultava sentì sotto di sé le mani di Daphne che lo tenevano contro il suo grembo. Vide l'espressione statica sul suo viso e improvvisamente si rese conto che lei aveva fatto tutto di proposito l'aveva pianificato sua moglie l'aveva eccitato mentre dormiva aveva approfittato di lui mentre era ubriaco e l'aveva tenuto stretto per avere il suo seme la guardò negli occhi e bisbigliò come hai potuto lei non disse nulla ma dal suo viso capì che aveva udito le sue parole Simon la staccò da sé proprio mentre sentiva che stava per stringersi a lui negandole selvaggiamente l'estasi di cui lui aveva goduto come hai potuto ripete lo sapevi sapevi che io ma lei si era già rannicchiata con le ginocchia contro il petto determinata a non perdere una sola goccia del suo seme Simon imprecò forte e si alzò dal letto aprì la bocca per insultarla per accusarla di averlo tradito di avere approfittato di lui ma aveva un nodo alla gola e la lingua gonfia non riusciva a pronunciare neanche una sillaba figuriamoci una parola intera tu disse alla fine Daphne lo guardò inorridita Simon bisbigliò lui non voleva che lei lo guardasse come uno scherzo della natura oh cielo si sentiva come quando aveva sette anni non riusciva a parlare non poteva far funzionare la bocca era perduto stai bene riesci a respirare gli domandò preoccupata non avrebbe voluto dirle di non compatirlo ma non riuscì a emettere altro suono si sentiva addosso il disprezzo del padre che gli stringeva la gola lo strozzava Simon Simon di qualcosa lo supplicò Daphne correndogli accanto la voce terrorizzata allungò la mano per toccarlo ma lui si ritrasse non toccarmi gridò Daphne arretrò bene vedo che ci sono cose che riesci ancora a dire replicò con un filo di voce detestava se stesso e la sua altalenante capacità di formulare le parole e odiava la moglie perché aveva il potere di fargli perdere il controllo aveva lottato tutta la vita per sfuggire alla sensazione di soffocamento che lo faceva balbettare e adesso lei l'aveva riportato lì non poteva lasciarglielo fare non poteva permetterle di farlo tornare il bambino di un tempo cercò di dire il suo nome ma dalla sua bocca non uscì una sillaba doveva fuggire non riusciva a guardarla non sopportava la sua presenza non sopportava nemmeno di restare con se stesso ma questo purtroppo era irrisolvibile non avvicinarti balbettò puntandole contro un dito mentre si infilava rabbiosamente i pantaloni tu hai fatto questo questo cosa gridò lei stringendosi nel lenzuolo simon smettila che cosa ho fatto di tanto sbagliato tu mi volevi lo sai che mi volevi questo urlò indicandosi la gola poi puntò il dito contro il ventre di lei quello dopodiché incapace di sopportare la vista della moglie più a lungo fuggì dalla camera se almeno fosse potuto fuggire da se stesso con la stessa facilità dieci ore più tardi Daphne trovò il seguente messaggio affari urgenti in un'altra mia proprietà richiedono la mia presenza confido che vorrei avvertirmi se i tuoi tentativi di concepimento hanno avuto successo il maggiordomo ti trasmetterà le mie istruzioni in caso di necessità simon il foglio cadde dalle mani di Daphne svolazzando lentamente sul pavimento le sfuggì un singhiozzo si premette le dita sulla bocca come se questo potesse arrestare l'ondata di emozione che si agitava dentro di lei simon l'aveva lasciata l'aveva lasciata davvero lei sapeva che era in collera che forse non l'avrebbe mai perdonata ma non aveva pensato che l'avrebbe abbandonata anche quando era uscito furente dalla stanza era sicura che avrebbero risolto il problema ma adesso non ne era più così certa era stata così egoista da pensare di poterlo guarire di poter ricomporre i pezzi del suo cuore ora capiva di essersi illusa di avere molto più potere di quanto avesse in realtà aveva creduto che il suo amore così intenso ardente e sincero avrebbe indotto simon a dimenticare gli anni di odio e dolore che erano stati il motore della sua stessa vita come era stata presuntuosa e adesso come si sentiva stupida capì che certe cose erano fuori dalla sua portata nella sua vita protetta non se ne era mai resa conto non si era aspettata che il mondo le si presentasse su un piatto d'argento ma era sempre stata convinta che impegnandosi duramente per ottenere qualcosa trattando le persone come lei desiderava essere trattata di sicuro avrebbe conquistato ciò che voleva ma non quella volta simon era irraggiungibile mentre si avviava verso la sala gialla la casa le sembrò quieta in modo innaturale si domandò se tutti i domestici avessero saputo della partenza del duca e la evitassero dovevano aver sentito spezzoni della lite della sera prima Daphne sospirò sopportare il dolore era anche più difficile davanti a un piccolo esercito di spettatori o invisibili spettatori come nel suo caso tirò il cordone del campanello buffo come non avesse mai dato importanza ai pettegolezzi prima ma adesso si sentiva disperatamente sola a cosa doveva pensare vostra grazia Daphne alzò gli occhi e vide una giovane cameriera che esitava sulla soglia le fece una piccola riverenza e attese te per favore senza biscotti solo te disse Daphne la ragazza annui e corse via mentre aspettava che lei tornasse si toccò la pancia e la guardò con venerazione poi chiuse gli occhi e pregò ti prego Dio fa che ci sia un bambino poteva essere la sua unica occasione non si vergognava per quello che aveva fatto forse avrebbe dovuto ma non si vergognava non l'aveva pianificato non sapeva esattamente come fosse accaduto ma a un certo momento si era trovata su di lui e un momento dopo aveva capito che Simon non sarebbe riuscito a tirarsi indietro in tempo e si era assicurata che non lo facesse o forse si era approfittata di lui semplicemente non lo sapeva tutto si era confuso la balbuzie di lui il proprio disperato desiderio di un figlio l'odio del marito per il padre tutto le turbinava nella mente e non sapeva dove finisse una cosa e ne cominciasse un'altra e si sentiva terribilmente sola udì un rumore alla porta e si voltò aspettando di vedere la giovane cameriera con il tè ma al suo posto c'era Mrs. Colson aveva il viso tirato e l'espressione preoccupata Daphne le sorrise aspettavo la cameriera mormorò avevo delle cose da fare nella stanza accanto così ho pensato di portarvi il tè io stessa Daphne sapeva che non era vero ma annui la cameriera ha detto niente biscotti ma so che avete saltato la colazione così ne ho messo qualcuno sul bassoio è un pensiero molto gentile Daphne non riconobbe il timbro della propria voce era come se appartenesse a un'altra persona non è stato un disturbo ve lo assicuro sembrava che la governante volessi aggiungere qualcosa ma poi drizzò le spalle e domandò serve altro? lei fece segno di no Mrs. Colson si avviò alla porta e per un attimo Daphne pensò di richiamarla e chiederle di sedersi a prendere il tè con lei le avrebbe rivelato i suoi segreti la sua vergogna e avrebbe pianto non perché fosse particolarmente amica della governante ma perché non aveva nessun altro ma non lo fece e Mrs. Colson uscì Daphne prese un biscotto e lo morse pensò che forse era ora di tornare a casa Grazie a tutti